Ebbene si, ci siamo, ci siamo Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco Siamo su Dissidia Final Fantasy o per omnia versione giapponese Perché finalmente sono uscite, e anzi è uscita l'ultima batch awakening di questi livelli 70 Abbiamo chiuso un ciclo, abbiamo chiuso un nuovo ciclo del nostro gioco Abbiamo chiuso un nuovo capitolo per quanto riguarda i livelli 70 E oggi mettiamo un punto Partiamo subito col vedere, al solito, i vari banner e le news che ci sono all'interno del gioco Ovviamente partiamo dalla sezione, tra virgolette, sciopposa del gioco stesso Dove cominciano gli sconti per quanto riguarda le gemme Quindi abbiamo ancora una volta il gem sale che ritorna fino al 15 di agosto Dove ovviamente in base ai pacchetti che acquisteremo potremo ottenere diversi oggetti extra Successivamente, come vi ho detto nel video di ieri Torna anche il vestito di lightning Quindi chiunque se lo sia perso adesso può prendere il vestito di lightning Poi successivamente partiamo nel vedere anche l'evento Che non è altro una forma di eretics divisa sempre in tre fasce Ovvero quelle livello 30, quelle livello 60 e quelle livello 90 Così come le abbiamo avute praticamente su quasi tutte le eretics Dove appunto poi nella parte del livello 60 tecnicamente sbloccheremo la multiplayer Almeno credo che sia così E poi successivamente nella 90 dovremo avere le stage cosmos e caos Credo perché comunque ormai sono una consuetudine e quindi le avremo Ma ovviamente quello, tutto quello che stiamo aspettando è questo Uno, anzi questo è il secondo banner della batch dove abbiamo addirittura due soli personaggi Ovvero Waka e Sian Waka sappiamo benissimo questa essere un'ottima occasione per ottenere le sue armi Dato che con Diablos, visto che sarà la summon di questo mese La super summon di questo mese, livello 30, l'ultimate challenge Avremo Waka sinergico e quindi questo già potrebbe essere un inizio Quindi un primo banner dove ottenere qualche sua arma Mentre invece per Sian, come al solito, non ha ottenuto la ex Non ha ottenuto niente Per il momento ha il 70 ma zoppica parecchio Quindi ancora bisogna lavorarci su di lui E quindi io personalmente se dovessi trovare le sue armi Probabilmente le cestinerei perché non mi interessano Quelle di Waka invece probabilmente le terrei Se dovessi ottenere le armi di Waka Dato che adesso ci andremo a fare anche le free pull Se dovessi ottenere quelle di Waka appunto le terrei Ma il banner che tutti stiamo aspettando Il banner che abbiamo aspettato è questo Ovvero banner XXX con Lightning, Hope e Shadow Questa notte è uscito il video introduttivo di Shadow Dove hanno fatto vedere appunto la sua nuova meccanica Che è esattamente come l'avevo prevista io Infatti ragazzi con cui ho parlato su Discord ieri sera Abbiamo speculato un pochettino su quello che poteva essere Shadow E infatti possiede il suo cane insieme a lui Interceptor Dove praticamente è una sorta di buff Chiamiamolo così tra virgolette Come con Yuri e Selinka Quindi nel momento in cui attiviamo la X Otteniamo il buff per 6 turni Dove il cane, dove il nostro migliore amico Come sempre Starà al nostro fianco Ed effettuerà un secondo attacco come counter E un secondo attacco anche dopo i nostri attacchi Quindi veramente ottimo Tantissimi danni Poi con la 65 addirittura aumenta l'evasione a se stesso E anche l'attacco Quindi anche lui diventa una sorta di evasion app Quindi se dovessimo effettivamente fare il team con Galuf Con Galuf, Shadow e poi Edge Avremo un team completamente missabile Mi piacerebbe molto questa cosa Un'idea molto carina Però vediamo effettivamente prima che cosa succede All'interno di questi banner Io personalmente non vorrei pullare forte Cioè non vorrei fare hard pull all'interno di queste batch Perché vi ricordo appunto che io sto aspettando Porom Sto aspettando Porom Perché veramente è uno dei support Che mi è piaciuto dopo averla vista utilizzata Io ai tempi l'avevo schippata Invece adesso devo assolutamente prenderla Vi faccio vedere un attimo gli eventi come sono divisi Visto che poi molto probabilmente faremo queste free pull E ripeto se dovessimo ottenere dei ticket Poi li andrò a spendere lì sulla batch di Shadow Però andrò solamente di ticket al momento Non utilizzero gem Ecco qui Abbiamo le tre varianti delle nostre eretics Abbiamo il primo blocco La prima fascia Dove abbiamo appunto le livello 30 E poi successivamente la stage extra che sbloccheremo Livello 40 o 50 Adesso non ricordo Poi qui abbiamo le livello 60 Con probabilmente lo sblocco della multiplayer Infatti qua possiamo vedere anche le ricompense Vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione Quindi le orb Quelle per migliorare le armi Un blossom Poi la possibilità di poter ovviamente maxare quel blossom Cristalli Variocolore Le piume Chocobo Le pozioni Armored Token Eccetera eccetera Quindi neanche non avremo a disposizione neanche i tickets A meno che poi tra le varie stage Sicuramente riusciremo ad ottenere qualcosa Però dai premi non ci sono neanche i ticket E il che effettivamente non mi piace tantissimo come cosa Perché almeno una ventina di ticket li avrei voluti Speriamo di poterli ottenere magari completando poi le altre eretics Qui abbiamo l'ultimo blocco Livello 90 Dove poi successivamente probabilmente sbloccheremo la X Poi Cosmos e Chaos E queste le farò ovviamente per conto mio E poi vi farò vedere il risultato finale Eccoci qua Cominciamo con questo nostro finalmente Con questa nostra celebrazione estiva Una summer campaign tecnicamente Dove tutti i banner del mese di agosto saranno gratuiti Quindi veramente approfittatene Se non avete cominciato il jump Se volete cominciare il jump Questo è veramente un'occasione irripetibile Dove tutti i banner che appunto usciranno saranno gratuiti Quindi tanta possibilità di ottenere tanta roba Cominciamo con il primo banner gratuito Gli altri ovviamente resteranno ancora per un periodo di tempo Ma come ben sapete non hanno multi gratuita Mentre invece qua si Spero di ottenere parecchie armi Così posso cestinarle e maxare Ex death Che ancora mi manca un pallino per la sua ex Ancora a livello platino Nel senso azzurra e non ex plus Le free multi a dire la verità Non mi hanno mai portato bene all'interno del gioco Quindi spero magari di rompere questo filone Oh la 35 di UH Quindi alla fine 35 di UH Che per il momento non cestinerò Quindi va bene Va bene Assolutamente va bene Non la cestinerò Perché vi ho detto appunto Che le armi di UH Tendenzialmente vorrei tenerle Visto che comunque lui avrà il rework con Odino Cioè avrà il rework Viene reworkato E poi avrà la sua ex plus con Odino Con Diablos Sicuramente sarà interessante da vedere che cosa succede E come esce fuori E facendo parte anche del banner Avremo la possibilità di prendere magari qualche arma in più Sì che ho ottenuto solo una 35 Quindi non è un granché Però Andiamo invece con il banner Di shadow Hope E lightning C'è stato un connecting Ma penso che probabilmente sia Una questione Una questione diversa Allora sto avendo un po' di laggino Allora vediamo se adesso si sistema Magari Cerchiamo di ridurre Un pochino Perfetto Adesso sembra che si sia stabilizzato Via Quindi uno Due Tre Quattro Cinque Buono Sei Sette Otto Ottimo Nove Shadow Ok X di lightning Doppione E 15 di lightning Doppione Quindi Abbiamo ottenuto l'unica arma EX Che non mi interessava Ovvero quella di lightning Che ho già Quindi Assolutamente non mi interessa Abbiamo ottenuto la 15 di Di shadow Che a dire la verità Non mi fa Assolutamente schifo Visto che comunque avevo intenzione Come vi ho detto io Di appunto Portare Un po' più in alto Shadow Facciamoci una sola multi Allora Facciamocene Facciamocene un'altra Visto che comunque ieri Hanno regalato queste Queste 6.000 gemme Io ovviamente Ne ho 47k Quindi più quelle che dovrei Riaccimolare dai nuovi eventi Eccetera eccetera Comunque Dovrei essere ad un numero Sufficiente Voglio fare un'ultima multi Perché a dire la verità Vorrei Scurare almeno la EX Successivamente avrò la possibilità Di poter prendere 15 e 35 Con i red token Visto che Durante la seconda settimana Di agosto Avremo la possibilità Di prendere i power Diciamo i power token Ogni giorno Per una settimana Quindi Potrò sicuramente Riuscire a prendere Le loro armi Shadow Mi interessa Particolarmente Anche se a dire la verità Hope Non è male Però D'altronde ripeto Mi servono anche le power stone Perché mi servono anche le power stone Quindi Facciamocene una sola Facciamocene una sola Anche qua Connecting con Boccia argentata Non male Però Vediamo un po' Sono 3 4 5 Cambio di nuovo 5 Buono 6 7 8 Buono Quindi 9 Ok Power stone Uh EX di shadow Ed EX di hop Tutte e due in una multi Tutte e due in una multi Tutte e due in una multi Va benissimo Va benissimo Tutte e due in una multi Ottima Ottima cosa Cioè non potevo Multi perfetta ragazzi Non potevo desiderare di meglio Non potevo desiderare di meglio Le 15 e 35 Non sono un problema Anzi forse più le 35 Che le 15 Non saranno un problema Ripeto Ma avere tutte e due Le EX con una sola multi Non posso chiedere di meglio Ragazzi Non posso chiedere di meglio Veramente Perfetto La multi perfetta La multi perfetta Adesso non mi resta che accumulare Le altre gemme Le altre gemme che farò Ovviamente con questo capitolo Perché credo di arrivare almeno a 45k E non appena arriverò a 45k Farò un'altra multi Resterò sulle 40 Non voglio andare Più in basso di 40 Perché ripeto Devo pullare su Devo pullare su Su Porom Quindi Va bene così Oppure Facciamo una cosa Dato che comunque devo Accumulare lo stesso La faccio adesso la multi E poi dopo le recupero E non pullo più Quindi Ultima multi su questo banner Visto che quello che abbiamo trovato Va benissimo Così poi posso chiudere direttamente il video E non ho bisogno di fare altro Sono soddisfattissimo Mi è uscita la multi perfetta Mi è uscita la multi perfetta Hope e shadow insieme Top Non ho contato neanche a quante siamo Ma mi sa Qua questa vedo Penso sia una mono oro 35 E 15 di shadow Ottimissimo Ottimissimo Direi Ottimissimo 35 anche di shadow Allora Però ho aspettato Ora che ci penso In realtà Mi mancano soltanto Due multi Per arrivare Ai 100 pt token E prendere una power stone Cioè A dire il vero Fermarmi adesso Sarebbe forse Una mezza cagata Allora dai Facciamoci Va bene Arriviamo alla power stone Dai Va bene Ci sta Alla fine l'investimento Una volta che ho trovato tutto Ci sta Va bene Arriviamo alla power stone Mi prendo la power stone E poi tutte le altre gemme Che farò Durante questi eventi Le conserverò Ovviamente Perché Sapete benissimo Devo pullare su porom Tra l'altro Ci sarà anche young Con la x plus Speriamo le armi di shadow Sì 15 Va bene Power stone Off banner Così a caso Ma va bene Alla fine È un'altra power stone Ok Ultima multi Rimaniamo a 27 Barra 30k Visto che Ovviamente Farmerò le gemme Dei vari Dei vari stage Quindi mi va benissimo Farò leo nel frattempo Viola E poi lavorerò Sul Su rosa E poi probabilmente Su ex death Quindi cambio veloce Qua ho notato Però sto vedendo Molte argento Non le sto contando Quindi Non so se effettivamente Sarà una mono oro Sì Mono oro Con lightning Ok Siamo arrivati a 100 Perfetto Non ho bisogno Di pullare più Scambio già direttamente Adesso La Scambio adesso I pt I pt token Con la power stone Che è L'unica cosa Che mi serve Per il momento Ok Fatemi sapere voi Se avete pullato Fatemi sapere Come è andata Fatemi sapere In generale Cosa vi aspettate Da questo banner A me è andata benissimo Veramente Non potevo Desiderare di meglio Vi faccio vedere Addirittura le ex Così giusto Per farmi volere bene Un po' di più Eccole qua Abbiamo ottenuto Lightning Che è in più Tra l'altro E Hope E Shadow Dalla stessa multi Quindi Veramente Veramente Tantissima roba Spero che al solito Il video vi sia piaciuto Vi prego Fatemi sapere Al solito Cosa avete trovato voi E se avete pullato E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima